Quando entri in un reparto ti affiancano subito una persona più anziana o che sa già il lavoro, ti insegna tutti i trucchi, tutti i modi per poter lavorare ed eventualmente se ti capita qualche problema come risolverlo. Io ho incominciato con la carpenteria, in carpenteria facevo i flap dell'aereo, dalla carpenteria sono andato a controllo numerico velivoli dove facevo i pezzi dell'aereo del P180, quello che facciamo ancora adesso e poi quando c'è stata la crisi 4-5 anni fa, dei velivoli che praticamente si diceva che veniva improntata la produzione di tutti i suoi motori, molti dei miei colleghi e io siamo stati spostati giù ai motori dove siamo tuttora e anche lì abbiamo dovuto iniziare tutto da capo, quindi essere affiancati a dei colleghi, imparare i nastri perché poi non è che fai un lavoro solo in quella macchina lì, fai diverse lavorazioni di particolari diversi, quindi ogni particolare ha delle fasi di lavorazione diverse e per ogni fase devi capire e devi immaginare, poi a forza di farlo poi ti viene meccanico, la macchina se gli dai una determinata correzione, come si comporta, se gli dai 2 centesimi di correzione magari lei te ne prende 4, allora gliene devi dare in meno, ogni macchina c'ha, anche se è nuova purtroppo, però è una macchina, quindi devi starci dietro. Quattro o cinque macchine sono state prese dopo che ci siamo trasferiti a Villanova, per esempio uno dei torni che uso io è stato comprato, è arrivato un anno dopo che ci siamo trasferiti lì, altri invece sono state macchine, cioè erano macchine che erano a finale, sono state trasferite lì anche perché erano nuove, per esempio gli altri due torni sono arrivati nel 2008, quindi sono nuovi anche quelli, cioè per noi è una macchina di 10 anni, è una macchina nuova, se è tenuto bene, se si fa manutenzione come si deve, una cosa dura anche 50 anni. Tieni conto che Piaggio ha più o meno, è nata 100 anni fa, più o meno, e quindi ci sono delle macchine che sono state poi rimesse a nuovo, vengono rettificate, adesso per esempio c'è un tornio fresa che è stato rettificato, praticamente se tu la vedi sembra nuova, io ti parlo di torni tradizionali, di altre macchine più rudimentari. Nel mio reparto ce ne sono 25-30, più o meno. Praticamente gli arriva il pezzo con la bava, allora loro hanno il compito di renderli lisci in modo da non essere taglienti, perché ogni bava crea una rottura nell'aereo e quindi si rompe il pezzo. E quindi hanno il compito anche lì con carta a vetro e con i loro, noi li chiamiamo macacchetti, ma sono cosa d'aria compressa, con rotondi, che hanno il compito di, hanno la carta a vetro attaccata, e sbavano e lisciano tutti questi particolari qua. Devi imparare, devi imparare bene, anche perché ci sono degli smussi e se a disegno ti hai richiesto un smusso di 45 gradi o di 30, e tu lo fai diverso, magari puoi non andare bene e buttare via il pezzo. Sono pezzi che non sono fatti da un'unica macchina, quindi se tu prendi un pezzo che lì per lì ti sembra una cavolata, però magari è un processo fatto da diverse macchine e quindi diversi operatori, tanto tempo e il costo può essere elevato. Se tu butti via un pezzo che ti sembra inutile, magari quel pezzo vale 10.000 Euro come niente. Per esempio facciamo gli alberi dei Viper, che quelli costano 80.000 Euro, cioè ammazzi uno di quei pezzi lì, sono 80.000 Euro, che a te non ti fanno niente, ti può arrivare un richiamo, stai più attento alla prossima volta, però è una responsabilità, perché dici ammazzo 80.000 Euro, per l'azienda è una perdita notevole. Il reparto motori è diviso nel reparto dove sono io e poi nella revisione. La revisione è quella che, lo dice la parola stessa, fa la revisione dei motori degli aerei, e li smontano e collaudano bullone per bullone, rondella per rondella, dove se non funzionano sostituiscono e poi riconsegnano al cliente il motore. Cliente che normalmente, io penso che è il nostro governo, il nostro forza armato, infatti facciamo la revisione per le frecce tricolore, per gli elicotteri dei carabinieri e così via, polizia, abbiamo praticamente tutti questi clienti che sono una buona cosa, perché si sa che lavorare col governo è una sicurezza, ecco. Inizialmente ci siamo trasferiti noi, quelli di finale, in un secondo tempo hanno messo a posto Genova, perché Genova comunque aveva degli scali con degli aerei sopra, quindi doveva finire con gli aerei per le consegne. Noi invece eravamo riusciti a fare magazzino, quindi il tempo per poter trasferire, e poi abbiamo cominciato subito a lavorare. Circa un anno dopo è venuta a Genova, hanno portato gli scali lì, hanno cominciato a lavorare direi circa un annetto fa. Andiamo tutti in Pulma, hanno organizzato dei Pulma che da Genova portano a Villanova, da Savona e da Finale. Fai conto una cinquantina a turno, più o meno, se non ero, perché i Pulma sono più o meno da 47-50 posti. Poi ci sono anche tutti gli impiegati, io adesso sto parlando di operai, poi ci sono anche tutti gli impiegati, perché poi c'è il reparto impiegati laggiù, la palazzina impiegati laggiù e poi la palazzina impiegati di Finale. Noi facciamo i turni, loro invece fanno il normale, quindi iniziano alle 8 e finiscono un quarto alle 5. Noi facciamo 6-2-2-10, 10-6.